Buongiorno a tutti, mi presento, sono Nicola Palmisano, chef di Godo Ristorante di Logo Rotondo e ospiti quest'oggi al Carnevale di Putignano, abbiamo deciso di dedicargli un piatto dal nome Carnem Levare, che dal latino come sapete è il termine da cui deriva il carnevale per l'appunto. Carnem Levare che vuol dire mettere da parte la carne, da quest'idea a noi di Godo Ristorante c'è nata l'idea di fare per l'appunto un piatto con baccalà, ceci a richiamare la farinella, ingrediente tipico di Putignano e degli strozzapreti di farina di avena. Cerchiamo di rivisitare questo piatto per l'appunto con il baccalà passato in una farina di ceci che verrà fritto, questa farina di ceci che verrà richiamata per legare la salsa di condimento con i ceci stessi per l'appunto. Ingredienti molto semplici, molto di basso costo della tradizione dell'entroterra locale, dei nostri dei nostri paesi locali. Buongiorno a tutti, io sono Luciano Padronelli, uno dei tre soci di Godo Ristorante. Questo progetto nasce dalla voglia di fare bene il nostro lavoro con professionalità. Abbiamo avuto il piacere di conoscerci solamente dieci anni fa con Nicola che è praticamente il nostro chef. Siamo nati il 21 giugno del 2019, siamo giovanissimi. Oggi siamo ospiti del carnevale di Pettiniano, cercheremo di fare solamente il nostro lavoro con professionalità.